è arrivato il momento di capire come montarlo e come calibrarlo quando esce dalla scatola lo trovate così un pezzo di qua un pezzo di là senza neanche addirittura il treppiedi ma nel momento in cui andiamo a fissare come prima cosa il treppiedi per avere un po' di stabilità la seconda mossa che dovremmo andare a fare è quella di collegare la base con il gimbal in un'unica direzione vedete che le direzioni sono abbastanza semplici da intuire quindi nel momento in cui troviamo l'aggancio andremo a chiuderlo occhio che c'è questa levetta qui che deve essere tirata su ok per fissare il gimbal se noi questa levetta non la tiriamo su il gimbal si smonta di nuovo quindi fissiamo questo di modo che rimanga stabile e iniziamo sbloccando i vari motori perché li sblocchiamo perché sono fissati per il trasporto ve lo dicevo già in un altro video che probabilmente troverete qui in alto la possibilità di fissarli per il trasporto è grazie a queste piccole levette che si trovano su ogni asse una qui una qui e l'ultima qui sotto quindi una volta che abbiamo liberato il nostro gimbal possiamo eventualmente andare a ribloccarlo nella posizione che più ci aggrada ad esempio questa posizione qui che è quella di calibrazione della macchina vedete che adesso è fermo fissato in questa posizione in cui noi possiamo andare ad inserire la nostra telecamera prima di inserire la telecamera lo sbilancio completamente in modo che possiate poi capire come si va a ribilanciare quindi sposto tutti gli assi un po' a caso ok ora non è più minimamente calibrato e vado a recuperare la mia telecamera in questo momento la telecamera è una sony alfa 6003 con già il blocco del follow focus collegato se volete sapere come si collega il follow focus alla telecamera faccio un altro video magari lo metterò qui in alto di modo che possiate vedere come è collegato dove vanno finire i cavi insomma un po' più user friendly del manuale piccolino così che effettivamente non è così intuitivo al primo colpo ok abbiamo il piatto già attaccato alla nostra telecamera in questo caso il piatto è collegato sulla metà del suo peso è abbastanza intuitivo heavy, light e la direzione della lente quindi lo andiamo a fissare in questa maniera recuperiamo di nuovo il gimbal, sblocco questo asse e vado a inserire da dietro la telecamera apro un po' di più qui e ha fatto un click ha fatto un click perché lateralmente di qua ha questo pulsantino qui che permette la non fuoriuscita della telecamera in caso di scivolamento per uscire di nuovo bisognerà appiggiare questo pulsante e allora potrà uscire la telecamera la rimettiamo dentro, ok iniziamo la calibrazione la prima parte importante da sapere per la calibrazione di qualsiasi gimbal è che dobbiamo mettere la telecamera nella posizione in cui poi la vorremmo utilizzare dobbiamo già inserirci la batteria, dobbiamo inserirci l'SD, dobbiamo averci tolto anche il copri obiettivo dobbiamo fissare tutti i cavi in questo caso se abbiamo qualche cavo da collegare di modo che non ci siano problemi di bilanciamento dopo e la prima cosa che dobbiamo andare a fare è riuscire a vedere che questa telecamera rimane in questa posizione qua come potete ben notare pende in avanti quindi andiamo ad aprire qui sotto e spostiamo la telecamera indietro se la sposto troppo indietro cosa succederà? che va verso indietro vedete mentre io la voglio esattamente centrata ok eccoci qua e fisso il mio primo asse bisogna fare un asse alla volta perché altrimenti si va via matte possiamo eventualmente visto che siamo sul primo asse andare a bloccare questo adesso ok bloccato sempre con la solita levetta e andiamo a sbloccare l'asse di rollio si sblocca da qui sotto e vedete che tende leggermente ad andare verso destra quindi in questo caso sposterò la telecamera verso sinistra non so se vado abbastanza bene perché ho abbassato molto anche questo quindi per controllare se questo può andare bene come movimento riblocco l'asse di rollio e vado a sbloccare nuovamente l'asse di pitch e vado ad alzare la mia telecamera voglio che rimanga in questa posizione qua che sia abbastanza centrata nel momento in cui la lascio direi che posso andare già abbastanza bene ok questo è un primo check poi eventualmente daremo un'occhiata se va meglio e guardate che cosa succede adesso tende ad andare verso il basso quindi vuol dire che la telecamera non era bilanciata correttamente in questa direzione andiamo a spostarla ancora un po' più indietro ok ora ci siamo esatto ora vedete che la telecamera in qualsiasi posizione la vado a mettere in questo asse rimane correttamente ferma rifissiamo questo asse riprendiamo un attimo per curiosità quello del rollio per vedere se andava bene vedete che non andava bene infatti e andiamo a spostare la telecamera leggermente più a destra svitiamo sotto e troppo vedete che è proprio millimetrico il lavoro che andiamo a fare vado ancora un po' a sinistra troppo a sinistra eccoci qua e andiamo a rifissarla nuovamente quindi abbiamo mollo l'asse anche del pitch l'asse del roll va bene ci manca l'asse dello yo cioè dell'imbardata questa qua vado a sbloccarlo sempre con le levette di cui ho parlato prima e come faccio a capire come si va a stabilizzare questa asse qua è molto semplice andiamo ad inclinare il gimbal in questa maniera vedete che subito questo motore qua si sposta verso indietro vuol dire che il peso che ho dietro è maggiore di quello che ho davanti quindi aprirò il mio fermo e sposterò la telecamera in avanti vedete e riblocco e provo vado a destra e adesso è il muso della telecamera che va a pesare di più quindi l'ho spostato troppo e mi sposterò un po' più indietro ancora il muso stiamo migliorando ma non siamo ancora arrivati al punto giusto eccoci qua adesso la telecamera è correttamente bilanciata perché in qualsiasi posizione io la vado a mettere lei rimane ferma in quella posizione bene abbiamo visto come montare e calibrare il Ronin SC nel prossimo video daremo un'occhiata a come montare il piatto sottostante per il follow focus se vi è piaciuto il video ricordatevi di cliccare mi piace ed iscrivervi al canale ricordatevi che ci vedremo il martedì con la diretta su youtube il mercoledì con le videoproduzioni e i tutorial e il giovedì con le pillole di DaVinci Resolve a me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video ciao ciao